Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Giulia Nel lato posteriore potete apprezzare fari di ultima generazione, affilati e verticali. Ad ogni modo, l'auto non nasconde la sua anima tipica di un marchio che continua a far sognare milioni di automobilisti in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli interni, molto interessante è la plancia che suddivide il contachilometri e il contagiri in due occhielli distinti e sparati. Nella parte sinistra, non può mancare l'ormai classico display touchscreen perfetto se avete intenzione di sviluppare il vostro sistema di infotainment. Se invece volete regolare l'assetto dell'Alfa Romeo Giulia, vi basta tenere sotto controllo il relativo sistema denominato DNA mediante. Tre rotelle situate al di sopra della leva del cambio. Alfa Romeo Giulia Motori e prestazioni L'Alfa Romeo Giulia punta anche, se non soprattutto, sulle sue prestazioni pure di assoluto rilievo. Oggi il listino del nuovo vi mette a completa disposizione ben 6 motorizzazioni, 3 a benzina e 3 a gasolio. Nel primo caso, ecco per voi un propulsore da 2,0 litri e 4 cilindri, con una potenza di 200 e 280 cavalli. Se invece siete alla ricerca della totale sportività, ecco il supermotore quadrifoglio da 2,9 litri, 6 cilindri e ben 510 cavalli. Un autentico mostro di performance. Per quanto riguarda le proposte diesel, potete scegliere fra tre proposte 2,1 da 4 cilindri, con potenze pari a 160, 190 e 209 cavalli. Avete quindi a vostra disposizione diverse opportunità di primissima categoria e dalle prestazioni sicure e garantite, con la prospettiva. Di rendere la vostra esperienza di guida davvero divertente. La diesel da 209 cavalli vi offre il cambio automatico a 8 rapporti unito a una moderna trazione integrale denominata Q4. Invece, la 2,0 benzina da 280 cavalli vi garantisce solo la trazione integrale. I consumi sono ottimi se si pensa che entrate in possesso di un'auto ad alte prestazioni. Si pensi infatti che la Giulia Quadrifoglio vi può garantire 12,2 chilometri con un singolo litro, mentre la 2,1 diesel da 160 cavalli sfiora i 24 chilometri. Alfa Romeo Giulia, allestimenti disponibili. Un altro elemento tutto da scoprire dell'Alfa Romeo Giulia riguarda i suoi otto allestimenti, grazie ai quali avete solo l'imbarazzo della scelta. Eccoli di seguito, ognuno con le proprie peculiarità che possono fare al caso vostro. La versione di base vi offre già diversi accessori di rilievo, tra i quali spiccano il cruise control, la predisposizione per il bluetooth, il climatizzatore e il sistema di controllo per la trazione. La super può piacervi perché aggiunge alla dotazione di serie citata prima un insieme di sensori che vi favoriscono nei parcheggi più laboriosi. La business vi fa salire di livello grazie ad un navigatore satellitare di ultima generazione. La Tech Edition non possiede il navigatore, ma lo sostituisce con cerchi in lega che pongono in evidenza l'impronta sportiva della Giulia. La Sport Edition vi offre il già citato navigatore satellitare, oltre a consentirvi di guidare con un moderno cambio automatico. La Executive è un ulteriore passo avanti e vi immerge in una sensazione di confort assoluta. La Quadrifoglio è una versione ancora più avanzata della Executive e vi può lasciare letteralmente a bocca aperta. La veloce è la versione top di gamma, anche se non vi offre i fendinebbia e il tetto apribile. Alfa Romeo Giulia, prezzi delle varie versioni Come potete notare, mettervi alla guida di un Alfa Romeo Giulia può essere davvero un'esperienza tutta da raccontare alle vostre persone care, essendo una vettura ricca di fascino, eleganza e sportività. Dando un'occhiata ai prezzi, la 2,0 benzina da 200 CV parte da 44.700 euro, mentre se volete 280 CV dovete sborsare a partire da 57.300 euro. Per quanto riguarda il diesel, la variante 2,1 da 160 CV vi costa a partire da 43.200 euro, mentre quella da 190 ha un prezzo iniziale di 45.700 e la versione da 209 ha un prezzo pari a 54.000 euro. Un discorso a parte lo merita invece l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che può entrare in vostro possesso ad un costo di base di 86.500 euro. Ad ogni modo, qualsiasi siano le versioni e gli allestimenti che preferite, siate consapevoli di poter acquistare una vettura capace di segnare la storia del settore dell'automobile, non solo per le prestazioni, ma anche per un aspetto fortemente esclusivo e personale. Non dimenticatevi, infine, che ad ogni optional corrisponde un incremento di prezzo che, in alcuni casi, può risultare anche molto sensibile. Su Brum Brum puoi trovare Alfa Romeo Giulia usata, scopri il modello più adatto per le tue esigenze.